Una di quelle giornate che accendo il microfono letteralmente non so di che cosa parlerò oggi. Giornata un po' strana perché mi sono svegliata all'alba per vedere l'ultima puntata di una serie che sto seguendo, che stavo seguendo con grande interesse. Stamattina ora degli Stati Uniti, tre del mattino in Italia, ma non mi sono alzata le tre, mi sono alzata un po' più tardi, hanno mandato in onda l'ultima puntata e io non volevo che qualcuno me la rovinasse sui social media dicendo come sarebbe finita, quindi mi sono assolutamente isolata, mi sono svegliata abbastanza presto. Anziché mettermi a fare le cose che faccio solitamente la mattina, quindi iniziare con i miei tre minuti grezzi, colazione, email, mi sono messa a guardare l'ultima puntata di questa serie TV. E' grande soddisfazione la puntata, anziché durare 50 minuti, un'ora è durata un'ora e mezza, quindi diciamo che ho rallentato notevolmente tutte le altre cose che sono venute dopo, però poi vabbè mi sono messa a fare il mio lavoro, tra un po' devo andare a insegnare comunicazione, anzi no, team building, comunicazione all'interno dei gruppi, a una classe di giovani donne, giovani ragazze, che stanno seguendo un loro percorso non sempre semplicissimo, quindi è una classe abbastanza, diciamo, esigente, dove devo sempre farmi venire idee nuove per tenere alta la partecipazione. Quindi i tre minuti grezzi li sto registrando adesso in quasi tarda mattinata, però non riuscirò a mandarli in onda prima probabilmente di questo pomeriggio. Vabbè comunque non è frega niente perché chissà quando lo ascolterete, la cosa bella del podcast è che ve lo ascoltate quando vi pare. Quindi anche questo è un episodio super autoreferenziale, ma questo è quello che succede quando si apre il microfono e non si ha idea di cosa si parlerà. Una volta che il microfono è acceso vedo la lancetta, la linetta della registrazione che procede e non posso iniziare un nuovo argomento perché mancano 30 secondi alla fine di questo episodio di tre minuti grezzi e in 30 secondi veramente non si può, non si ha il tempo per iniziare e concludere un discorso. Quindi lo lascerò sgocciolare via così come quando si lava una bottiglia e poi si vuole far uscire tutta l'acqua che si lascia sgocciolare goccia a goccia e questi ultimi 10 secondi, vabbè, ve li dedico mio amatissimo pubblico, vi voglio bene e dai ci sentiamo domani in modo più strutturato.